Che sta accadendo? Verdini, Renzi, questo segnale di confusione possiamo dire a livello politico? Passare dai partigiani, dalla lotta alla resistenza, alla difesa della Costituzione a Renzi e Verdini mi sembra che la dimostrazione di che oceano ci siano tra quei valori è quello che vediamo oggi nel panorama nazionale. Io l'ho scritto anche ieri, noi ancora di più siamo motivati a consolidare questa esperienza autonoma di città fuori da questo sistema politico fatto di affari, trasversalismi, inciuci, cambi apparenti di casacca. Mi sembra che il governo Renzi ormai si regga su questo, Renzi continua a dire di essere un uomo di sinistra se è convinto lui evidentemente siamo nella confusione più totale perché mi sembra i legami con Alfano da una parte adesso Verdini condannato in primo grado per corruzione, Verdini si sa da dove viene, da dove nasce, dov'è e dove andrà un fiorino direi al Partito Democratico. Va bene? Arrivederci.